Sì, è grande, è grande. Questa è la lingua. Si dà il caloppio. Proprio bello. Sì, è più grande di questo. Non mi piace lasciarci tutto. Guarda, muove l'uovo quando fanno. Sì. C'è sempre un po' di stupiani, così stavolta. Si stanno sfidando, avevo ragione. Scusa, bisogna buttare l'uovo. No, se lo mangiano. Se lo mangiano? Si mangiano l'uovo. Quando hanno fame fanno... Tanto sono i due che riescono a sfidare. Sì. No, non così grande. Solo la coda. Perché una letta si è staccata la coda. Guarda quello cosa faccio io. Ci siamo presi il primo pezzo però. Cosa? Ci siamo presi il primo pezzo quando mi spingeva con la testa. Vabbè. Io resto a fermo. Nonna. Ti raccontate. Allora sono passate tre settimane. Sono passate tre giorni. Eh beh, effettivamente abbiamo delle... Allora.